Sono 1500 i ragazzi veronesi che si recheranno a Cracovia per partecipare alla prossima giornata mondiale della gioventù. Molte le iniziative predisposte per questo appuntamento in Polonia, ma il centro di pastorale giovanile della diocesi veronese ha organizzato anche un evento per coloro che resteranno a casa. Con questa proposta si vuole far partecipare a distanza alla GMG con lo spirito di condivisione e comunione con i giovani a Cracovia. Ne abbiamo parlato con Don Nicola Giacomi, con il quale ci siamo soffermati anche su altre proposte e iniziative predisposte in queste settimane di vigilia. L'abbiamo chiamata Casa Ettovia, un po' tra l'unione tra Casette di Legnago e Cracovia. È proprio vivere la viglia e la messa del giorno dopo, quel sabato 30 e quella domenica 31, in un evento, per chi non può, proprio in questa parrocchia dove hanno spazi molto belli, dove ci sono persone che ci credono molto. Ci sarà anche il nostro Vescovo che parteciperà a questa messa, celebrerà la messa da Casette e potranno vivere proprio in collegamento con noi, in collegamento proprio di dirette, proprio per vivere insieme l'esperienza di chiesa, di misericordia con Papa Francesco. E poi c'è un ulteriore elemento, questo gemellaggio in loco qui a Verona di ragazzi che vengono da altri paesi e che poi con voi arriveranno a vivere l'esperienza della GMG. Sì, abbiamo questa esperienza che ormai da Verona è molto assodata, ne sono da tanti anni che ogni giornata mondiale alla gioventù nelle nostre diocesi fideidonum, dove abbiamo i nostri preti, le nostre comunità, i nostri laici e le nostre suore che stanno facendo l'esperienza fideidonum. Saranno ragazzi dal Brasile, dalla Guinea-Bissau, dalla Thailandia e da Cuba, anche da questo luogo così, che è la prima volta insomma. E da lì vivranno un'esperienza di tre settimane. La prima settimana la viveranno nelle nostre parrocchie dove le ospiteranno, qui nella nostra città di Verona. Poi viveranno la settimana con noi della giornata mondiale alla gioventù, proprio insieme ai giovani che li hanno ospitati e poi l'ultima settimana, la prima settimana ad agosto, li porteremo in giro per l'Italia, li faremo arrivare a Loreto, ad Assisi e a Roma per vivere proprio il loro pellegrinaggio e il loro giubileo della misericordia in pieno. Poi abbiamo anche un'altra esperienza un po' particolare, però ci abbiamo tenuto e ci crediamo molto. Abbiamo sette giovani che partiranno per il Mozambico per vivere l'esperienza della giornata mondiale della gioventù con 1500 giovani in Mozambico. Là non verrà nessun giovane del Mozambico a vivere questa esperienza, ma abbiamo deciso insieme a Don Alessio, Don Silvano e alle varie suore che ci sono giù nella nostra commissione diocesana di fare l'incontrario. Sette giovani vivranno e là vivranno proprio una giornata mondiale alla gioventù con maxischermi, videoproiettori per vivere proprio in comunione con noi che noi saremo a Cracovia e loro saranno in Mozambico.